Ciao bimbi, benvenuti a un nuovo lavoretto creativo. Oggi dipingeremo con i tappi. Ci serviranno un foglio, un piattino, un pennello, dei tappi di sughero e delle tempere. Incominciamo a scegliere i colori che vogliamo utilizzare e li mettiamo sul piattino. Perfetto, adesso incominciamo a dipingere. Prendiamo un tappo di sughero, lo intingiamo nel nostro piattino e stampiamo sul foglio. Prendiamo un altro tappo. Prendiamo un altro tappo. Prendiamo un altro tappo. Adesso andiamo a finire con il pennello. Prendiamo un altro tappo. Prendiamo un altro tappo. Ed ecco il risultato finale.